Ciriaco De Mitta sarebbe ricoverato in un ospedale di Avellino, ci troviamo nella regione Campania. L'uomo vi ricordo che ha ben 92 anni di età, non è più un giovanotto, ha un'età molto molto elevata, molto avanzata. E pensate che Cossui ha svolto servizi a livello politico di grande impegno, di grande passione, di grande intensità. Vi ricordo che è attuale sindaco di una cittadina nel Campano, nella regione Campania, e ovviamente la sua bravura è immensa nell'ambito politico. Le sue condizioni però vi ricordo che non deve essere una preoccupazione, da come si legge su internet, però bisognerà aspettare meglio quale sarà il prossimo bollettino medico che verrà emesso. Se ci saranno informazioni utili in più, ve le fornirò per tempo, aggiornando in maniera completa. Questo video non vuole ledere la praiosi di Demitra, ma solo informare eventuali persone del fatto che purtroppo l'uomo in questione sarebbe ricoverato. Ad Avellino, regione Campania. Grazie, ciao, al prossimo video, una buona giornata a voi.